Tabacco Dani il 965 da una discussione di FLP del 2006. Una volta apprezzavo il 965, anche se non era proprio la mia English Mixture preferita. Gli riconoscevo una certa originalità di gusto. Eh, tanti anni fa una IM con Cavendish era quasi una bizzerria. E soprattutto un aroma fine e complesso che stava a testimoniare dell'eccellente qualità dell'insieme. Mi dispiace, ma le ultime latte fumate, un paio nel giro dell'ultimo anno, eh, sono proprio un'altra cosa, perfino il taglio e le caratteristiche organolettiche sono diverse. Dove prima c'era una bella gamma di colori, dal nero al giallo a oro, in taglio grosso e mixture, e adesso c'è un taglio piatto e omogeneo, Cavendishet, ma del resto la stessa casa produttrice dichiara ormai alcune delle vecchie English Mixture Daniel come Cavendish, purtroppo. Gusti e aroma sono lì, senza infamia e senza lode, a cercare disperatamente di ricordare qualche traccia della vecchia migliore miscela mai prodotta. Lo so, qualcuno dirà che noi vecchi pipatori abbiamo la fissa dei bei tempi e delle belle cose di una volta, come tutti i vecchi in tutti i campi e del resto. Sinceramente mi sono chiesto spesso se quei sapori e aromi che ricordo, e ricordiamo, in miscele ormai semi-mitiche, come il Balkan Sobranis 759, il John Cotton, l'Escudo e compagnia cantando, non siano solo concrezioni psichiche assolutamente non oggettive. Come mi sono chiesto se per caso il mio o nostro disincanto verso le miscele attuali non sia semplicemente l'effetto di un palato ormai logoro e desensibilizzato da migliaia di pipate. Non saprei dire, in tutta onestà, forse c'è anche in questo una parte di verità. Però, a dire proprio tutto, recentemente ho avuto modo di riprovare diverse pipate di Sullivan Special Mixture, in lattine semi-arrugginite, dimenticate incredibilmente, in una tabaccheria, in qualche dove che non ricordo, e avventurosamente reperibili e reperite dall'impareggiabile Ubic per il gruppo di Napoli. Ebbene, una volta arieggiato, riumidificato e restaurato, il glorioso Sullivan si è fatto comunque riconoscere per quel che era. E non ho faticato a ritrovare quei toni che solo chi lo ha fumato a suo tempo può individuare in quei déjà vu percettivi di cui tutti prima o poi facciamo esperienza. Magari non sono poi del tutto sicuro che un pipatore di ultime generazioni possa preferire il vecchio al nuovo 965 o preferire le vecchie English Mixture alle cosiddette Modern English Mixture. Forse, come è naturale, c'è una dinamica dei gusti e delle preferenze che, seppure faticherei a chiamare evoluzione dal mio punto di vista, è pur sempre un cambiamento con cui occorre fare i conti. Grazie.